Salve, oggi è il 18 maggio 2016, un mese esatto dal scomparso di Karina Affe, uno dei più bei sorrisi che il cinema italiano ci ha regalato. E allora, come dice sempre mia mamma, alla gente egno bisogna volerli bene quando c'è, non quando non ci sono più. E a lei tutti noi, italiani non solo, abbiamo voluto molto molto bene quando c'era e adesso, che è brutta a mancare, rimane nei nostri cuori e la ricordiamo con grande grande piacere. Il bacio mio e suo in Sapore di Mare è il bacio artistico più bello e più importante della mia carriera. E allora un grande saluto con qualche piccola scena. Ciao da me, da voi, da tutti gli amici di Karina Affe. Roberto, aspetta, anch'io voglio conoscere la signora Fusilli. Sarebbe inutile parlare ancora dei problemi miei, li conosce assai. Lui felicino, io felicina, molto felicina. Molto felicina. Susan? Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona. La suaocamana di Spiriggio, a tutti gli amici di C-C-C-C-Solo. È un po' divertente, questo sentimento di iniziare. C'è un po' divertente, questo sentimento di iniziare. I'd buy a big house where we both could live